Ci avevano chiesto i confronti, i duelli, io li sto ancora aspettando, sto aspettando che l'On. Di Maio trovi il tempo di accettare l'invito che egli stesso si è posto e mi ha posto a novembre in campagna elettorale, lui è a norma di legge il capo politico del Movimento 5 Stelle, io sono a norma di legge il capo politico del Partito Democratico, questa è un'espressione che la legge richiede, che entrambi abbiamo firmato nel dichiarare l'accettazione della candidatura, se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a confrontarci su tutti i temi impegnativi e meno che vogliamo discutere. Il capo politico della Lega Nord si chiama Matteo Salvini, aveva detto che sarebbe venuto nel mio collegio, l'ho aspettato, però poi pare che abbia cambiato idea, grande rispetto per lui, ma possiamo vederci in televisione o altrove. E naturalmente sarei pronto e molto felice di un confronto televisivo con il presidente Silvio Berlusconi che a memoria non fa confronti televisivi da forse da occhetto, no no no, da Prodi, ma siccome lo visse Prodi quel confronto televisivo ha smesso di fare.